Siamo alla terza partita di Il campionato di seconda categoria a giorni B L'atletico Pomarico sfida in casa l'accettura Dove batte quest'ultima per 4 reti a 1 Il Pomarico inizia bene Infatti all'ottavo minuto di gioco Il terzino Pasquale Carioscia Sigla la sua prima rete stagionale Con un tiro da circa 20 metri Sorprendendo il portiere avversario Al trentasettesimo Il solito Fabio Montano Sigla la rete del raddoppio Mettendo al sicuro il risultato Il primo tempo finirà poi con il parsare di 2 reti a 0 Con l'inizio del secondo tempo Il risultato rimane invariato Fino all'entrata del nuovo acquisto Gabriele La Terza Che va in rete dopo appena un minuto dal suo ingresso L'attaccante La Terza non contento del gol All'ottantunesimo fornisce L'assist per Fabio Montano Che sigla la quarta rete del Pomarico Allo scadere del tempo L'accettura segnerà poi il gol della bandiera La partita finirà con il risultato Di 4 reti a 1 Vediamo ora le interviste Sono insieme a Pasquale Carioscia Che oggi è partito da titolare E ha segnato il suo primo gol con l'atletico Omarico Segnando anche un bellissimo gol Diciamo quasi un euro-goal Diciamo così Pasquale, chi vuole ringraziare? Vuole ringraziare qualcuno in particolare? Sì, volevo ringraziare tutta la dirigenza Dal presidente All'allenatore che hanno creduto in me Soprattutto l'allenatore E un ringraziamento particolare Anche all'allenatore dei portieri Che mi ha sempre spronato dopo l'infortunio Anche se ho giocato in un ruolo Che non è precisamente il mio Però pur di giocare mi sono adattato E sono felice perché quest'anno è una grande famiglia Siamo contenti anche noi delle tue parole Pasquale, speriamo che tu possa continuare a far bene Come stai facendo ora E quindi, chissà, non segnare anche tanti altri gol Come quello di oggi Speriamo Ti ringraziamo Pasquale Sono insieme a Gabriele La Terza Nel bungalow dell'Atletico Marico E il primo gol all'esordio Una bellissima prestazione Dicci un po' Gabriele Come è nata l'azione Insomma, come hai segnato Vabbè, io sono entrato in campo Al posto di lo frumento Rocco E come sono entrato E è arrivata una palla dall'esterno Salerno E mi sono avventato sulla palla Con un po' di fortuna Un paio di rimpalli Sono riuscito ad arrivare davanti al portiere A piazzarla sul palo più lontano Oggi sei contento di questa prestazione? Anche perché essendo la tua prima partita Cioè, è brillato in una maniera incredibile Eh, non riesco a reagire Perché ancora non ci credo tanto Però Dai, speriamo che comunque puoi fare tantissimi altri Non me l'aspettavo Insieme all'Atletico Va bene, Gabriele, ti ringraziamo E ci sentiamo per i prossimi giornali Grazie a voi Ciao